Perché il 28 aprile del 1794 i sardi riuscirono a mandare via i piemontesi perché la Casa Savoia aveva davvero in qualche modo annullato tutte le forze della nostra isola. Le richieste delle nostre delegazioni sarde venivano puntualmente ignorate. Il messaggio era chiaro, non c'è spazio per rivendicazioni politiche. La Sardegna è solo una colonia sabauda. Il clima era rovente, la tensione palpabile. Era il momento di rialzare il capo. Il momento di rialzare il capo era giunto e Francesco Ignazio Mannu, in maniera quasi sotterranea e clandestina dalla Corsica, scriveva quei versi che accompagnano i sardi e le sarde ovunque nel mondo. Procurate moderare, paronesa dirannia, Signo, provvido mia, torra di sappe in terra. Declarare già se guerra contro di sappe potenza. E comincia la pazienza nel popolo a mancare. E comincia la pazienza nel popolo a mancare. Scriveva così Francesco Ignazio Mannu, ma sarebbe davvero importante che la nostra pazienza finisse oggi, perché di soprusi e di tirannie la nostra Sardegna continua a soffrire. Grazie. 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 Grazie.